il tema è che non ti metti proprio lì, mettiti distante dove hai il cane si però ti devi mettere in una posizione di sicurezza non devi stare sotto dove taglio non taglio niente non taglio i codici hanno le tasche in una posizione del pifero dove ti metti l'imbrago c'è le tasche ok 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 Grazie a tutti 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 Taglio quelli fuori Grazie a tutti 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 Va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti